Potrebbe essere un inizio, cercare di capire attraverso degli specialisti il ripetersi di comportamenti viziati, la resistenza ai farmaci, l'ansia ingiustificata, gli attacchi di panico. In occasione della giornata del benessere psicologico, alcuni specialisti offriranno una prima consulenza gratuita a chi sta attraversando un momento di difficoltà. L'uomo è un sistema complesso dove i tre piani, il fisico, lo psicologico e il sociale, è un tutt'uno. Quindi se ne trascuriamo una parte, anche il resto va compromesso. Uno dei fenomeni, dei disturbi più diffusi è proprio l'ansia, attacchi di panico e stress. Inizialmente vengono scambiati per attacchi cardiaci, quindi le persone si rivolgono a un medico pensando di avere un problema al cuore. Dopo tanti accertamenti, invece emerge che dal punto di vista fisico non c'è nulla e che è richiesto invece un intervento psicologico. Quindi la causa non è nel nostro corpo. L'iniziativa organizzata dall'ILT, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, e dall'Associazione Culturale Il Laboratorio, che da più di un anno opera sul territorio di Lama, ha l'obiettivo di sensibilizzare il mondo sanitario e la popolazione sull'importanza del contributo dello psicologo nella promozione della salute. Molte patologie fisiche restano irrisolte proprio perché hanno una matrice mentale. Tra i tanti fattori di rischio nell'insorgenza dei tumori rientra anche forti stress psicofisici. Quindi oltre all'inquinamento, agli stili di vita, anche il nostro benessere psicologico può contribuire in senso positivo se ce ne prendiamo cura, in senso negativo se invece la trascuriamo, sulla possibilità, la probabilità che possano insorgere anche dei disturbi tipo tumorali. Chi volesse usufruire della consulenza gratuita degli psicologi può telefonare allo 099-777-0127 dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20 sino a venerdì sera. Le visite saranno effettuate sabato mattina in un centro polispecialistico di Lama.